La fascia elastica ha i suoi pro e i suoi contro. Il pro favorevole è che aiuta la mamma a gestire meglio il mal di schiena, per cui se hai mal di schiena va bene portare qualche ora al giorno la fascia elastica perché sarai più sgravata nella postura e per il male alla schiena. La fascia elastica ti aiuterà oltre alla muscolatura a sostenere il ventre, ma attenzione perché se la porti troppo potresti trovarti dopo con un ventre più rilassato, con le fasce muscolari troppo ammorbidite e potresti recuperare troppo tardivamente la tua forma fisica, per cui qualche ora al giorno è concessa ma non tutto il giorno.